Mi sento superfluo, ma non inutile, futile ma necessario, almeno come termine di paragone del meno. Ho un'ora libera, mi farò venire i nervi, che ieri non ebbi il tempo di gustarmi in santa pace, perché ero occupato. Trasporto 86 chili, tra ossa, carne e vestiti, a orari prestabiliti. Dalla casa all'ufficio e viceversa, dal letto al gabinetto e viceversa, dall'estate all'inverno e dalla vita al sonno eterno. Vedo nel volto degli altri, passare i miei anni. Vedo avanzare in più scaltri, soltanto ai miei danni. A che rimbrotti, a che elegrità. Datemi una buona dose di polvere insetticida. 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 che i miei danni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.